Buongiorno a tutti, la motivazione di questo video è capire che tipo di turismo abbia indotto il 6GP a Taranto. Voi sapete che nell'ultimo fine settimana di settembre a Taranto è stata la 6GP. La 6GP ha comportato una spesa per il bilancio del comune di 7 milioni e mezzo di euro per un triennio, quindi diciamo mediamente 2 milioni e mezzo di euro. Mi sono chiesto che tipo di turismo invece abbia indotto, cioè quante persone si è avute a Taranto per vedere questa manifestazione. Siccome era impossibile saperlo diversamente, ho chiesto quale fosse la tassa di soggiorno del comune di Taranto incassato nei mesi di estivi. Mi hanno risposto. Nel mese di giugno il comune di Taranto è incassato 20.560 euro, nel mese di luglio 22.966 euro, nel mese di agosto 27.739 euro. Nel mese di settembre invece il comune di Taranto è incassato di tassa di soggiorno 13.781 euro. Capite bene che se nel mese di settembre sono stati incassati 13.781 euro e invece a giugno 20.000, a luglio 22.000 e ad agosto 27.000, a settembre abbiamo incassato di meno che negli altri mesi. Quindi evidentemente non c'è stato nessun tipo di turismo indotto dalla SELGP, cioè non c'è stato nessun vantaggio. Abbiamo speso questi soldi, ma non c'è stato nessun vantaggio in termini di turismo diretto. Faccio anche notare che fatto 2 euro la tassa di soggiorno a notte, in realtà non è proprio così perché cambia a seconda della struttura ricettiva, però la modalità di struttura ricettiva, però siccome non è dettagliata la risposta all'interrogazione facciamo che mediamente 2 euro, a giugno ci sono stati 342 pernottamenti mediamente a notte, ad agosto circa 380, a luglio scusate circa 380, ad agosto circa 460 e a settembre ci sono stati 229 pernotti. Quindi al settembre, mediamente, ogni notte ci sono state 229 persone che hanno dormito nel settore oggettivo di tanto. L'importo completamente riscosso per la tassa di soggiorno nei mesi estivi, cioè giugno, luglio, agosto e settembre, è di 85.052 euro, diviso 2, fa circa 42.500 persone. Quindi ci sono stati 42.500 pernotti nei mesi estivi a Taranto. Quindi faccio sommessamente notare che il migliore di turisti presente a Taranto era frutto di una fantasia magari successiva ad un pranzo importante estivo, lo sai quando con gli amici ti siedi al tavolo durante l'estate, mangi tanto e magari bevi qualche birra di troppo. Il sindaco ha detto che c'era stato un milione di turisti a Taranto, in realtà i dati della tassa di soggiorno raccontano che 42.000 persone hanno pernottato in città nei mesi estivi. Grazie.